Nuova classe A, evoluzione quotidiana, oggi anche con nuovi motori ibridi. Il Como somiglia un po' alla Ternana, società ambiziose, disposta ad investire per salire in Serie A, andamento quantomeno altalenante, consapevolezza a questo punto che per essere protagonisti assoluti in Serie B ci vuole qualcosa in più da molti punti di vista. Moreno Longo, attuale mister dell'Ariani, subentrato a Gattuso, sembrava aver trovato il modo, dopo un inizio faticoso, di sostenere le ambizioni societarie. Proprio nella partita di Terni, all'andata, ci fu la virata tattica sulla difesa a tre, con un 3-4-1-2 efficace e vincente che aveva preso il posto del 4-rombo-2 che sembrava un pochino forzato per gli elementi a disposizione della squadra ariana. Da quella partita il Como non ha più abbandonato la difesa con tre centrali, alternando il 3-4-1-2, quindi con il trequartista, il 3-5-2 con il triangolo di centrocampo con il vertice basso e quindi una squadra con un centrocampo più folto, e qualche volta il 3-4-3. La partita scorsa, persa per 2-1 a Reggio Calabria, ha visto il Como sistemarsi in campo con il 3-4-3. In porta c'era Gomis, i tre difensori centrali erano Odental, Scaglia e Binks, i quattro centrocampisti erano Vignali, Arrigoni, Bellemo e Iovine, i tre attaccanti Cutrone, Gabrielloni e Mancuso. Guardando la fase iniziale della partita, soprattutto, una cosa è venuta chiaramente evidente, il Como con questo sistema di gioco si allunga un po' sul campo, infatti i due quinti Vignali e Iovine erano più spesso allineati con i tre difensori centrali e i tre attaccanti Cutrone, Gabrielloni e Mancuso erano lontani in avanti rispetto ai due mediani Arrigoni e Bellemo che quindi rimanevano con molto campo da dover gestire e campo dove la regina ha potuto giocare e dove il disturbo, la fase difensiva del Como arrivava con un pochino di ritardo. Il Como quindi è una squadra capace di adottare diversi sistemi, è poco prevedibile ma sembra anche poco specializzata in alcune situazioni di gioco. Longo non solo ha cambiato sistemi ma più di qualche giocatore ha giocato in diversi ruoli, fondamentalmente non è stato mai trovato un equilibrio costante tra la spiccata attitudine offensiva e la capacità di difendere sempre in maniera adeguata. La spiccata attitudine offensiva potremmo definirla ottima nel Como per qualità della manovra in alcune partite ma soprattutto per qualità degli attaccanti. Infatti la società lariana, molto ricca, ha investito molto nel settore avanzato, infatti ha giocatori di nome e di rendimento come Cudrone, come Cerri, inizialmente in panchina a Reggio Calabria. A Reggio Calabria nel finale di partita Moreno Longo è tornato alla difesa a quattro disponendosi con un centrocampo di tre che erano Baselli, Bellemo e Dacugna e tre attaccanti che nella parte finale della gara erano Cudrone, Cerri e Ciaia. Quindi un'altra improbabile forse soluzione a disposizione dell'allenatore del Como che però forse crediamo andrà, vista la particolare importanza di questa partita che può essere decisiva per il futuro delle due squadre, forse si affiderà a una squadra un pochino più compatta e a noi ci sembra l'opzione più possibile, quella del 3-5-2, approfittando anche del rientro di Parigini che quindi potrà essere un quinto più offensivo e magari spostando Iovine, che ha fatto durante il campionato nel terzetto di centrocampo. Comunque a centrocampo ci sono anche altre soluzioni possibili per fare compagnia ad Arriconi e Bellemo. I tre difensori centrali sono stati quasi sempre gli stessi, soprattutto dopo il passaggio ovviamente alla difesa di tre, forse per la partita con la Ternana si candida per un posto da titolare Canestrelli subentrato nella seconda parte della partita. Il Como cerca anche comunque di giocare il pallone in prima costruzione, infatti allarga i tre difensori, soluzione caratteristica delle squadre che giocano questo sistema di gioco e alza i propri esterni di centrocampo, a volte con uno scorrimento laterale di un centrale o a destra o a sinistra, ma è più spesso ad allargarsi molto a destra e quindi Vignali sale ancora più alto. Nei calci d'angolo il Como assume una disposizione particolare che è comunque a zona, un giocatore va sul palo, uno sul secondo palo, mentre la caratteristica nella situazione difensiva appunto su questa palla inattiva è la formazione di una diagonale di cinque o sei calciatori che seguono l'andamento della palla. Infatti se la squadra avversaria calcia a uscire, questa linea ha una particolare disposizione, se invece la traiettoria entrare, la curva è verso la parte opposta. Mentre invece negli angoli a favore il Como alterna situazioni in cui calcia direttamente in area a situazioni, almeno la metà delle volte, in cui si posiziona sulla palla con due calciatori. Al centro dell'area ci sono cinque o sei giocatori a saltare, due al limite e in genere cambiano un paio di disposizioni di partenza, ma il criterio è sempre quello di disporre saltatori sul primo palo, sulla metà di porta fino al secondo palo, quindi occupare tutto lo specchio della porta con i possibili saltatori. Il gruppo CIDAT è il più importante centro diagnostico polispecialistico convenzionato della ASL Umbria 2. Garantisce qualità particolarmente elevate nelle prestazioni di diagnostica per immagini, neurologia e neuroradiologia, fisioterapia e riabilitazione, odontoiatria, medicina del lavoro, medicina dello sport, endoscopia digestiva, cardiologia. CIDAT, da 25 anni, l'alta specializzazione in sanità a Terni.